Il male esiste, in ogni uomo. È una parte di te, ed è molto potente. Per questo ti fa paura. Se non riesco a controllarlo... Tutti dobbiamo fare i conti con il nostro lato oscuro. Si chiama diventare adulti. Noi non ti faccio l'oste sozono. E poi mi sveglio pensando che non è vero. Mi superhéroe non esiste. Noi non ti faccio l'oste sozono.